Jackson Pollock alla madre e i fratelli 8 marzo 1933 cari mamma San De Marte non riesco a credere che la passa ne sia andato malgrado tutte le lettere non ci siamo riusciti conto della gravità della sua malattia vorrei poter venire è faticoso per voi tre provvedere a tutto e poi è sempre più difficile per chi è lì per favore mamma non lasciarti a battere troppo è una delle cose inevitabili della vita anche se non certo all'età di papà mi consono un po' che non abbia dovuto restare a letto a lungo e che non abbia sofferto troppo c'erano molte cose che volevo fare per te e per papà ora le farò per te mamma smetterò di sognare e passerò ai fatti non c'è bisogno di renderle cose più difficili ora non so cosa dire né cosa fare tutto è talmente incerto mi devi dire com'è la nostra situazione finanziaria immagino che ci sia poco o niente ma Frank e Charles potranno dare una mano io non so ancora se arriverò a guadagnare qualcosa col mio lavoro Tollejan è molto addolorato e vi manda le sue condoglianze mi sono espresso così male ma lasciamo perdere vi scriverò presto di nuovo vi abbraccio forte Jack